Non si sente sicuro John Elkan del Coni e allora prepara tutto per andare al Tar. Aggiunge altri due pezzi da 90 alla squadra di avvocati, già di primo livello che rappresenteranno la vecchia signora il 27 marzo, davanti al giudice Palmieri Sallussi, moglie del figlio di Piero Sallussi, che noi tutti conosciamo, per tutte le belle geste e le parole che ha detto nei confronti della Juventus. Prima di andare a parlare del video e delle indiscrizioni che riguardano Elkan, io ci terrei a ringraziarvi, piccola postilla, tutti, uno a uno, tutte le persone che si sono iscritte e che continuano a iscriversi al mio canale, soprattutto a tutte le persone che commentano, perché è solo così che si può instaurare un dialogo. E magari posso rispondere anche a voi, anche perché lo fate in maniera veramente corretta e educata. Non ci sono insulti, non arrivano offese. Sì, qualcuno di voi a volte non è d'accordo con quello che dico io, ma grazie a Dio, così deve essere, altrimenti non ci possiamo confrontare. Vedo anche che nel confrontarci, nello scriverci, tenete sempre un profilo abbastanza educato. Mi fa molto piacere. Naturalmente c'è sempre, la marcia c'è sempre in tutti i canali, c'è anche in questo, però non avete importanza da me, non vi darò nessun tipo di importanza. Ecco, detto questo, per chi di voi ancora non l'aveste fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete un bel like al video perché lo merita. E un'altra cosa, condividete il più possibile i video che io metto perché sono informazioni che sui giornali non vedrete perché non parlano bene della Juve, perché non vogliono far vedere che la Juve alla fine potrebbe essere la vittima, ma si attacca soltanto. Quindi facciamo girare tra di noi, visto che la maggior parte che vi siete iscritti siete tutti giuventini perché qui la Juve non ne vedo, fate girare le informazioni che vi do, anche perché così più persone riescono a vedere e ascoltare la verità delle cose come che sono e magari non finiamo come nel 2006 che in 15 giorni ci hanno fatto un processo senza che noi ci abbiano capito niente e non abbiamo neanche potuto dire la nostra. Detto questo, finita la piccola parentesi, andiamo a parlare del CONI. Come vi ho detto prima, giudice Palmieri Sallusti, figlia, moglie del figlio di Piero Sallusti, sarà il giudice. Ma non è solo lei, e io mi auguro, come dice qualcuno, anche se a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, che non abbia lo stesso pensiero del suocero, perché se fosse così siamo belli che rovinati. Ecco perché le indiscrizioni ci fanno sapere che Ercan non si sente a sicuro davanti a questo giudice, anche perché un altro PM che lo affiancherà, che è il PM dell'accusa, è un certo Vincenzo Cesaro. Vincenzo Cesaro, che ci tiene a far sapere, non so quanto tempo fa sia uscita questa intervista, o questo articolo che hanno scritto su di lui, delle sue parole, un po' come Santoriello, dopo un po' le cose escono fuori, ragazzi. Quindi in questo momento stiamo cercando noi youtuber di cercare di buttare giù tutto questo castello di sabbia che hanno costruito, anche facendo vedere che le persone che parlano non sono attendibili. Vincenzo Cesaro dice, la vicenda della Superlega, questo è ancora quando si sta facendo la Superlega, che poi alla fine si era detto che non se ne faceva più niente, invece oggi sappiamo che la Superlega si farà. Quindi grande notizia anche su questo, è uscita la Superlega con i suoi dieci comandamenti alla faccia di Vincenzo Cesaro, che diceva proprio questo, la vicenda della Superlega rappresenta un'altra pagina squallida degli agnelli nel nostro paese. Quindi questo qui, già si vede che è una persona che, la Juventus, i personaggi che componevano la Juventus, ieri stavano particolarmente a cuore. Per far fronte alle loro incapacità imprenditoriali, va avanti lui, dice, per decenni lo Stato li ha assistiti con ammortizzatori sociali, addirittura. Io non vorrei dirgli che, a parte che le loro incapacità imprenditoriali hanno vinto per dieci anni di seguito, nove scudetti svariate coppe, quindi tanto incapaci io non li vedrei. Però questo comunque è sempre un pensiero suo, di un personaggio che è un PM d'accusa, che va a accusare una squadra nel quale odia proprio tutti i componenti, proprio la famiglia. Parlando di Ronaldo, sempre il nostro vincenzino, dice, Ronaldo, bimbo minchia, così lo sottolinea, con logiche feudatarie. Addirittura, ce l'abbiamo comprato tipo con logiche feudatarie. L'Italia non sarà mai un paese libero fino a quando loro rimarranno al potere. Nelle scuole va avanti, nelle scuole dovrebbero insegnare la storia degli agnelli, per far capire che nella vita bisogna farsi il mazzo e non rubare. Quindi nelle scuole dove non insegnano neanche praticamente l'educazione più, perché ormai hanno detto che la scuola non è il posto dove devono imparare l'educazione, ma è a casa, io mi ricordo invece che quando andavo a scuola io era a scuola che ti insegnavano l'educazione. A scuola dovrebbero insegnare e parlare della famiglia Agnelli, perché è molto importante per quanto riguarda le nostre nuove leve che devono essere formate per un domani. È molto importante. Poi nei commenti sotto lui ci tiene a scrivere Io odio gli agnelli e sono tifosissimo del Napoli. Se il Napoli, attenzione qua ragazzi, attenzione qua che qua si ride, 6 minuti e 10 secondi qua vi faccio ridere, dice il nostro amico Vincenzino Cesaro, Se il Napoli dovesse andare nella Superlega non la seguirei mai più. Boom! E parte la Superlega. Voi ve lo immaginate se effettivamente il Napoli può andare sulla Superlega? Io vorrei andare a casa di questo Vincenzino e vedere se c'ha il pezzotto per vedere poi le partite. Detto questo ragazzi, questo è il PM, un altro PM che fa parte del collegio di garanzia del CONI che dovrebbe andare, che dovrebbero andare poi a giudicare la Juventus al CONI. Quanto speranza abbiamo noi di superarlo? Io lo dissi anche nel video precedente, andatevelo a vedere. Con questi personaggi che compongono il CONI, praticamente è un'azienda a conduzione familiare sotto la bandiera del Napoli perché sono tutti napoletani, ma non che ci sia niente di male ad essere napoletani ragazzi, non capite male quello che io voglio dire. Però non puoi svolgere un ruolo se tu sei compromesso mentalmente e psicologicamente. Se la tua fede calcistica ti compromette le tue decisioni, tu non puoi svolgere un ruolo del genere nella giustizia sportiva. Ma questa è una cosa logica, anche lo dice Peter Pan dall'alto della sua prima elementare. Non c'è bisogno manco di essere uno scienziato, è logica ragazzi, è logica. Detto questo, se si fanno sempre più gravi le posizioni dei PM che attaccano la Juventus, noi andremo avanti. La Superlega, a quanto pare, si farà con i suoi dieci comandamenti che poi andremo a vedere. Non si abbandoneranno purtroppo i campionati nazionali e questa sarà una cosa aggiunta, ma poi ne parleremo in un altro video. In questo video ci tenevo a farvi capire chi sono i componenti del collegio di garanzia CONI e quante speranze potremmo avere noi in base alle dichiarazioni che hanno fatto questi personaggi nei confronti della Juventus e della famiglia Agnelli che poi vanno a giudicare. Le speranze per Giannercan sono poche, infatti lo ha fatto sapere nella descrizione, poche speranze. Noi ci prepariamo per andare al TAR perché è soltanto lì che potremmo avere la nostra giustizia. Detto questo ragazzi io vi saluto, un abbraccio se volete iscrivervi al canale come ho detto prima, soprattutto condividete e iscrivetevi, commentate. Un abbraccio, ciao a io!